E vi racconto un mondo nuovo, vi dico piano che è rotondo e quel che vedi sullo sfondo dipende poi da te da dove metti l'attenzione che ti dà la direzione e quel che noti al momento intorno a te sembra costante, sai perché? Costante è il tuo credere al mondo e ci credi a tal punto che rimani di stucco quando qualcosa di nuovo accade ti sembra un trucco, una presa per il Ma oggi tutto sta cambiando e sta cambiando per davvero e sta cambiando il cimitero e sta cambiando l'uomo nero e sta cambiando l'attenzione che ci ridà la direzione la gente non è più dentro al pallone e si ricorda di quando era bambina e vedeva ogni cosa luminosa misteriosa saporita fantasiosa e quanto avevo dimenticato piano piano è ritornato ho perdifiato grazie ai miei bambini che sono piccolini ma sono saggi come i grandi i grandi grandi per davvero e mi commuovono ogni istante e sono un po' stranito non capisco dove metto il dito e tutto quello che mi ha cambiato io bene dico ritorno, ritorno piano piano verso casa non ci credevo lo sognavo lo speravo con tutto me stesso lo desideravo ed ecco qui sta arrivando sta arrivando piano piano ecco qui 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 ecco qui ecco qui ecco qui Grazie a tutti. Grazie a tutti.